Buongiorno, bentornati su www.infocorsi.it oggi è sabato 15 gennaio, sono le 7.52 del mattino ma io sono già a lavoro per voi oggi sono qui per presentarvi Emule il software probabilmente più famoso per scaricare in maniera peer-to-peer da internet peer-to-peer vuol dire alla pari, pari contro pari quindi la possibilità di scaricare file musicali, video, software, giochi e via dicendo da nostri pari, cioè da altri normali utenti di internet che abbiano però installato Emule per trovare il software e quindi andare a scaricarlo su Google ho scritto Emule e mi esce un elenco di siti attenzione perché già qui possiamo trovare le prime insidie i primi siti truffa quindi il sito ufficiale, l'unico sito ufficiale da cui poter scaricare Emule in tutta sicurezza è questo qui emule-project.net quindi è molto importante che non vi lasciate ingannare da altri risultati in questo caso è venuto fuori per primo ma non è detto che accada sempre così perché spesso Google cambia l'ordine dei risultati quindi ora io lo vado a cliccare si visualizza il sito del mulo elettronico Emule vuol dire proprio questo, il mulo elettronico, eccolo qui, il nostro asinello e quindi noi andiamo a cliccare direttamente download a casa che avrete certamente più tempo di quello che ho io a disposizione in questo filmato vi consiglio di dare una spulciata e quindi di leggere con attenzione anche tutte queste altre pagine perché il sito è fatto molto bene e vi consente facilmente di vedere tutta una serie di guide, di consigli su come usare Mule che vi permetteranno di approfondire quello che già io vi dirò in questo filmato ora vado a cliccare quindi su download quindi attenzione che rimaniamo sempre su questo sito emule-project.net e nella sezione download, sapete che download vuol dire scaricamento ci sono una serie di link precisamente ce ne sono tre l'ultimo non è da prendere in considerazione perché si tratta del codice sorgente del programma come molti di voi sapranno Emule è un software open source quindi libero e gratuito ma anche liberamente modificabile è per questo che gli autori mettono a disposizione la sorgente in maniera tale che un eventuale programmatore esperto possa prendere la sorgente, modificare e personalizzare Emule il tutto nella perfetta e completa legalità poi c'è la versione binaria che può essere interessante per qualche utente un pochino più esperto perché consente l'installazione di Emule in maniera portatile quindi magari installandolo su una pennetta anziché sul computer e quindi consentendovi l'utilizzo di Emule anche spostandovi con la vostra pennetta da un computer ad un altro però diciamo che ci vuole un minimo di esperienza in più non tantissima ma un minimo in più invece l'installer è sicuramente il file quello più scaricato si vede anche dalle statistiche di download che è quello scaricato maggiormente e quindi il più utilizzato da qualsiasi tipo di utente esperto o no che sia quindi vado a cliccare questo scarica dove dice appunto installer a questo punto vengo reindirizzato su un altro sito che spesso ci è capitato di incontrare nei nostri video il sito sourceforge.net sourceforge è una piattaforma sulla quale si basano la maggior parte dei progetti open source è un altro sito di cui potete tranquillamente fidarvi però mi raccomando tenete sempre d'occhio sopra perché fin ad ora i siti che abbiamo visitato sono emuleproject.net sourceforge.net attenzione a eventuali altri siti non vi dovete fidare qui adesso l'internet explorer il programma che stiamo utilizzando per navigare e che non si fida mai di qualsiasi sito incontri ti dice che per facilitare la sicurezza ha bloccato il download del file quindi a questo punto probabilmente senza il mio aiuto ti saresti già bloccato e già non sapresti più scaricare il programma devi essere tu ora a dire a internet explorer che si può fidare di sourceforge e che quindi può scaricare tranquillamente il programma senza temere che possa essere un virus quindi prenditi la responsabilità di cliccare qui come sto facendo io e di dire scarica file altrimenti rimarrai bloccata a questa fase e non si scaricherà nulla ora quindi si ricarica la pagina di sourceforge questa volta internet explorer si fida perché glielo ho detto io e glielo hai detto anche tu a casa tua e quindi ci chiede se vogliamo sempre l'internet explorer ci sta ponendo questa domanda ci chiede se vogliamo direttamente eseguire il file che stiamo per scaricare o se lo vogliamo prima salvare diciamo che io vi ho sempre consigliato nella stragrande maggioranza dei filmati che abbiamo fatto su questo sito di salvare sempre e poi eseguire in un secondo momento in maniera tale eventualmente da poter prima controllare con un antivirus il file che si è scaricato quindi io clicco salva e ovviamente mi verrà chiesto dove desidero salvare il file scelgo il desktop ma potrei scegliere qualsiasi altra destinazione non è influente su quello che poi andremo a fare dopo e vado a cliccare su salva ora parte lo scaricamento che può durare anche un bel po' di tempo devo controllare che questo valore arrivi poi a quest'altro in maniera tale da essere sicuro di aver scaricato il file per intero a volte è un po' raro ma può capitare che il download si interrompa e quindi in qual caso poi non funzionerebbe l'installazione quindi 3,23 perfetto è andato tutto come volevamo posso tranquillamente chiudere questa finestra e momentaneamente chiudere anche l'internet explorer che avevamo aperto in due finestre e quindi lo chiudiamo sul mio desktop adesso voi non lo vedete ecco ve lo trascino dentro è apparsa quest'altra icona quindi sicuramente sarà apparsa anche sul vostro mi raccomando cercatela è l'icona dell'installazione di Emule Emule 050a installer ovviamente se vedete questo filmato qualche mese dopo rispetto alla giornata di oggi potrebbe capitare che invece della 050 sia venuta fuori la versione 051 o 052 quindi una versione più aggiornata adesso io faccio quindi doppio clic per far partire l'installazione e rispondo sì a qualsiasi conferma che il Windows mi va a chiedere sempre per motivi di sicurezza a questo punto è già partita l'installazione mi viene chiesto in che lingua la voglio fare è chiaro che scelgo l'italiano e poi clicco su ok nelle finestre successive bisognerà cliccare pressoché sempre avanti accetto installa sì cioè confermare sempre in poche parole come vedete vado sempre su avanti senza cambiare nullo clicco su installa ed ecco che parte l'installazione durerà qualche istante e poi arriverà la finestra finale di completamento attendiamo ancora qualche istante poi clicchiamo avanti accettiamo la creazione automatica di un collegamento sul desktop quindi lasciamo pure questa spunta senza problemi e clicchiamo su fine e quindi ora sul mio desktop è apparso quest'altro mulo elettronico questo qui lo posso anche cancellare perché si tratta del file di installazione che ormai ho utilizzato e che quindi non è più necessario per continuare il discorso mentre questo qua è il collegamento al programma vero e proprio oramai installato all'interno del mio computer dunque qui questo file tasto destro elimina se voi invece volete conservarlo per poter poi fare l'installazione anche su un altro computer senza dover riscaricare il file di installazione piuttosto che eliminarlo magari tagliatelo ed incollatelo sulla vostra pennetta in maniera tale da poterlo riutilizzare anche se ho altri computer clicco elimina e rispondo di sì quindi ora è rimasta l'icona del programma vero e proprio iniziamo quindi una semplice configurazione ma non prima di una breve pausa nel secondo filmato quindi spiegheremo come installare il programma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti